Prego, Giacomo. Grazie, grazie. Anche io un po' cercherò di, diciamo, fare una relazione un po', diciamo, provocatoria. I miei conflitti di interesse che non sono veramente rilevanti per questo talk. Quando io ero bambino, come probabilmente molti di voi, andavo un mese al mare con la nonna a Cogoleto e non è che c'era Sky, questo e quello, c'era la televisione e ti beccavi. E' un appuntamento fisso con la nonna, se non sbaglio giovedì sera, era con Perry Mason. Quindi anche io vorrei cercare di fare un po' l'avvocato difensore della teletrauma in questo smart meeting. La storia della teletrauma inizia, se vogliamo, o comunque diciamo un punto in cui il concetto emerge proprio chiaramente nella letteratura grazie a un lavoro di John Muschedere e appunto con Slatsky nel 1994, dove sostanzialmente si dimostra che, mentre in qualche modo era già noto che la ventilazione con pressioni positive alte potesse causare un danno polmonare, quello che dimostra il lavoro è un risultato per l'epoca estremamente innovativo, ovvero il fatto che una ventilazione con una inassenza di PIP o con una PIP impostata al di sotto del punto di flesso della curva a pressione volume, alla lunga causava un danno polmonare. Queste sono le curve pressione volume degli animali al diciamo baseline e queste dopo mi sembra sei ore di ventilazione appunto con diversi livelli di PIP. E vedete come solo l'utilizzo di una PIP al di sopra del punto di flesso fosse in grado di preservare le proprietà meccaniche del polmone, quindi di non causare danno polmonare anche come mostrato dalla istologia. e l'interpretazione degli autori era esattamente quella che il basso volume polmonare causato dall'assenza della PIP permetteva un ciclico reclutamento e dereclutamento ad ogni volume corrente degli alveoli e che questo fosse un importante meccanismo di danno alveolare. Questa è una review molto ben scritta recentemente da cui ho preso solo questa animazione che spiega questo concetto. Più o meno negli stessi anni il gruppo, ah no scusatemi, è questo lavoro diciamo che ha trovato un po' in molta risonanza nella letteratura, tanto che, come diceva il professor Gattinoni, si sente molto spesso parlare del danno da ciclica apertura-chiusura, reclutamento-dereclutamento a teletrauma, con quasi mille citazioni avute da questo lavoro. Più o meno, dicevo negli stessi anni, il gruppo Gattinoni-Pesenti era molto attivo nell'utilizzo della TAC nei pazienti con ARDS e la TAC è sembrata da subito uno strumento molto indicato per la valutazione di questo tipo di danno. In particolar modo, questo è semplicemente un esempio, vedete qui questo paziente a fine ispirazione ha delle aree diciamo alveolari, polmonari, che al termine della ispirazione sono nuovamente aerate, nuovamente reclutate. Quindi la TAC appunto è uno strumento che si presta molto bene a questo tipo di analisi ed è di quegli anni uno studio in cui si dimostra come la quantità di tessuto che va incontro, lo vediamo qui in giallo, ha reclutamento durante la ispirazione, da fine ispirazione qua in rosso a fine ispirazione, può essere considerevole nei pazienti con ARDS e viene sostanzialmente ridotto dalla applicazione della PIP. Il concetto diciamo è stato successivamente criticato in letteratura, in particolare c'è questo lavoro molto bello, secondo me veramente elegante e interessante da studiare, da leggere di Hubmeyer, della Mayo Clinic, che diciamo in questo lavoro di sette pagine riassume tutta una serie di elementi, di argomenti, secondo i quali la opening and collapse story dovesse essere guardata con scetticismo. Uno degli, diciamo, elementi che lui porta a supporto della propria ipotesi è basato sul posizionamento di micromarcatori a livello alveolare e sostanzialmente la tesi di Hubmeyer è ciò che vediamo come apertura e chiusura alveolare non è apertura e chiusura alveolare ma è semplicemente displacement, spostamento dell'edema che ha invaso gli alveoli. Comunque diciamo che successivamente la storia è stata confermata, la storia dell'apri chiudi è stata confermata da diversi studi, tra cui ad esempio questo del gruppo di Neiman che ha usato la microscopia intravitale per, diciamo, visualizzare alveoli normali e alveoli che invece andavano incontro a ciclica apertura e chiusura dopo deplezione di surfattante e per dimostrare come questo pattern fosse associato a danno da ventilazione. Quindi, come si diceva, negli anni la convinzione che la ciclica apertura e chiusura alveolare potesse causare danno ha preso piede e in effetti moltissimi studi preclinici hanno dimostrato che sì, ai bassi volumi polmonari gli alveoli si aprono e si chiudono ciclicamente e sì, questo è un meccanismo di danno polmonare. Non ho argomenti per, come dire, affermare il contrario. Anzi, questo è un chiaro meccanismo di danno alveolare. La domanda che vorrei fare è qual è la rilevanza clinica nei nostri pazienti di questo? Perché anche iniettare l'acido oleico è un meccanismo di danneggiare i polmoni, però nessuno di noi abitualmente si fronteggia con pazienti con danno ad acido oleico. Un dato, ancora una volta, a supporto della rilevanza clinica di questo meccanismo viene da questo lavoro del mio amico Pietro Caironi che dimostra come la ciclica apertura e chiusura alveolare aumenti nei pazienti con un livello di tessuto non aerato o tessuto reclutabile, se volete, superiore e come questo aumento della quantità di polmone che ciclicamente si apre e si chiude sia associato ad un aumento della mortalità. Addirittura sembra essere un fattore di rischio indipendentemente associato alla morte dei pazienti. Anche noi, come citava Marco Ranieri prima, abbiamo cercato di affrontare questo problema con l'utilizzo di una tecnica di imaging funzionale, ovvero la PET, che si presta bene a studiare l'attività metabolica e quindi l'infiammazione polmonare. Abbiamo arruolato una corte di 17 pazienti. Vi vorrei solo fare notare che la PIP era, direi rispetto almeno ai risultati del LangSafe, medio-alta e la ventilazione era, sì, protettiva, 6,5 ml pro chilo di tidal volume e una pressione di plato media di 25 cm d'acqua. Velocemente il protocollo di imaging, in cui i pazienti ricevevano una prima TAC basale, il bolo di fluoro di ossiglucosio per l'imaging dell'infiammazione e successivamente un ATAC di fine ispirazione, un ATAC di fine inspirazione, attraverso la quale, in modo, se volete, un pochino casereccio, riuscivamo a ricostruire la dinamica della inflazione del volume corrente durante l'inspirazione. E quindi sostanzialmente abbiamo voluto vedere a livello regionale la correlazione tra il fenomeno, diciamo, di distensione o sovradistensione degli alveoli già ventilati e l'attività metabolica, quindi l'infiammazione e viceversa i fenomeni di reclutamento e di reclutamento ciclico. Come ha accennato Marco, abbiamo trovato una buona correlazione tra l'infiammazione del tessuto polmonare e la pressione di plateau, poi però ci siamo chiesti questa è una semplice associazione o c'è un rapporto di causa-effetto? In qualche modo la pressione di plateau causa questo aumento dell'attività metabolica che osserviamo. E per fare questo abbiamo normalizzato la quantità di tessuto che viene esposto alla ventilazione, quindi l'attività metabolica del tessuto ventilato a quella del tessuto non aerato, che non è esposto alla ventilazione. In qualche modo, cercando di, se mi passate l'espressione, isolare l'effetto della ventilazione sull'aumento dell'attività metabolica. E nuovamente abbiamo confermato questa associazione, anzi rinforzandola. Abbiamo poi guardato il rapporto, come accennava il professor Gattiloni prima, tra il volume corrente che distendeva questi polmoni e il volume polmonare di fine espirazione. Quindi abbiamo in qualche modo normalizzato il tidal volume non alla dimensione del paziente, ma alla dimensione del polmone. E di nuovo abbiamo trovato una correlazione statisticamente significativa tra il tidal volume normalizzato alla dimensione del polmone e l'attività metabolica polmonare. Questo per dire che, in qualche modo, con la nostra metodica siamo riusciti a evidenziare un effetto della ventilazione meccanica sull'infiammazione polmonare. Quando però siamo andati a studiare le aree che vanno incontro a ciclico reclutamento-de-reclutamento, vedete, queste aree in blu sono sempre chiuse e dereclutate, mentre le aree delimitate in rosso, diciamo l'analisi è stata più complicata di così, però da un punto di vista visivo lo rendo così, le zone in rosso sono quelle che sono chiuse a fine espirazione e vanno incontro a nuovo reclutamento alla fine della inspirazione. Quando abbiamo guardato l'attività infiammatoria delle zone sempre chiuse e delle zone che si aprivano e si chiudevano, non abbiamo trovato nessuna differenza né statisticamente significativa né come segnale di trend. Ogni trattino, diciamo, ogni linea rappresenta un paziente, in alcuni pazienti c'è forse un segnale in una certa direzione, ma di fatto i nostri dati non evidenziano un effetto della ciclica apertura e chiusura sull'attività metabolica delle cellule. Più recentemente, un gruppo, diciamo, una collaborazione tedesco-bostoniana ha studiato i meccanismi da una parte di ciclica apertura e chiusura e dall'altra di, diciamo, distensione degli alveoli già ventilati in un modello di danno polmonare unilaterale e ha dimostrato che mentre c'è un chiaro effetto sull'attività metabolica del polmone, del cosiddetto volotrauma, quindi del danno sugli alveoli già ventilati, non sembra esserci un effetto così chiaro della telectrauma. Quindi, ancora una volta, come diceva Marco Ranieri, è rassicurante trovare in un diverso contesto uno stesso messaggio che abbiamo dimostrato in uno studio in clinica. Perché non abbiamo visto questa differenza? Una delle spiegazioni che ci siamo dati per cercare di tenere botta ai colpi dei reviewer è stato il fatto che andando a guardare la quantità di tessuto polmonare effettivamente affected, effettivamente riguardato da questo fenomeno di apertura e chiusura ciclica, abbiamo trovato che tutto sommato la quantità di polmone che si apriva e si chiudeva ciclicamente era molto, molto modesta. Nei nostri dati circa il 3%. Questo dato ci è sembrato veramente basso, però andando a vedere altri studi in letteratura, due studi che vengono dal Cile, l'ordine di grandezza diciamo pubblicato da questi autori vedete è simile. Nella popolazione generale trovano un 4% di apertura e chiusura che poi si riduce anche con una PIP più elevata e anche nei pazienti con alto potenziale di reclutamento la percentuale mediamente è attorno al 4%. Stessa cosa guardando due diversi livelli di tidal volume come atteso un volume corrente di 6 ml pro chilo riduce la quantità di tessuto polmonare che si apre e si chiude ciclicamente ma l'ordine di grandezza è sempre attorno al 3-4%. Recentissimamente Massimo Cressoni con Gattinoni hanno pubblicato quest'ulteriore analisi su pazienti con RDS mild, moderate e severe si dimostra che sostanzialmente non c'è una reale differenza tra i due gruppi nell'ordine di grandezza di tessuto che va incontro a ciclica apertura e chiusura nonostante sappiamo che le mortalità siano ben diverse e quindi ancora una volta viene da chiedersi se il meccanismo della telectrauma è così importante come mai è simile nei tre gruppi e sempre i numeri sono attorno al 3-5% del tessuto polmonare riguardato da questo tipo di fenomeno i modi per ridurre la telectrauma sono il basso volume corrente lo sappiamo probabilmente la pipe elevata e quello che ci garantisce questa la miglior combinazione dei due è l'HFO quindi l'HFO dovrebbe avere una a teletrauma bassissimo cosa che probabilmente è sfortunatamente sappiamo che l'HFO non conferisce nessun beneficio in termini di mortalità quindi in conclusione non ho nessun dubbio sul fatto che la telectrauma sia un ottimo modo di danneggiare gli alveoli però gli studi TAC sono consistenti nel dimostrare che la quantità di tessuto che si apre e si chiude è poco io non conosco uno studio che dimostro in modo diretto che questo processo causi infiammazione o danno negli uomini anche se sappiamo che gli studi che vi ho fatto vedere utilizzavano livelli di PIP più alti di quello che mediamente si applicano in clinica e quindi forse nei pazienti con PIP più basse di a teletrauma ce n'è più del soltanto 3-5% e comunque l'eterogeneità polmonare quindi la presenza di vicinanza la vicinanza di zone aperte e chiuse indipendentemente dal fatto che quelle chiuse si riaprono oppure no ha altri meccanismi per cui può causare danno polmonare vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie grazie